L'erba è un misto, sono andato in un prato con delcottico perché è di un anno da gattate che più buo, ma davanti. Ah, ho visto. E loro sono andato in un prevece, ma si lo scopi inizio. No, secondo me è la radio del furgone. Ah, beh, allora sì. Quante sono Gianni, in tutto le vacche? Eh, beh, le vacche saranno 30, una quarantina, poi ci sono smanche. Comunque la capienza della stalla è 48 parti. Ah, perché scappiamo. Grazie.